E' stata una visita conoscitiva, quella avvenuta stamane da parte della seconda commissione del Comune all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane Ponte Metauro in via Tamerice a Fano. Oltre al presidente Cristian Fanisi e consiglieri Aramis Garbatini e Federico Perini, entrambi i componenti della commissione urbanistica e ambiente, erano presenti Lucia Capodagli, presidente di Aset Spa, gli ingegneri Marco Romei e Matteo Lucertini e alcuni tecnici operativi del Comune. I consiglieri comunali vengono a visitare i luoghi dove la gente lavora e in particolare quei luoghi che sono legati all'ambiente. Quindi siamo stati in discarica, siamo qui e questo depuratore che insieme a quello di Bellocchi e quello di Ponte Sasso è uno dei tre depuratori della città ed è il principale ovviamente perché convoglia il 99,5% di tutte le acque insieme a quelli di Bellocchi e Ponte Sasso della città di Fano. Quindi questo è un segnale d'attenzione che noi vogliamo porre a chi lavora in questi settori, nel settore dell'ambiente, in particolare all'Aset Spa insieme all'Aset Holding perché crediamo che occorre far vedere alla gente che le cose a Fano sono fatte e sono fatte bene. Questo è un impianto ordinato, pulito, nel quale sicuramente questa città può fare vanto. Quanti sono i depuratori nel nostro territorio? Nel nostro territorio Aset gestisce sette depuratori, questo è quello più importante, quello di Ponte Metauro e qui vengono trattate tutte le acque della città. Nel 2007 è stato installato un impianto per poter consentire la riduzione dei consumi? Dal 2007 sì, sono stati sostituiti gli impianti di ariazione e quest'anno abbiamo effettuato un'ulteriore manutenzione straordinaria e questo garantisce un controllo dei consumi elettrici riducendoli in maniera sostanziale. Questa mattina spiegate anche le fasi del processo all'amministrazione comunale. Sì, esatto, perché è bene che le commissioni che comunque devono deliberare e decidere per i cittadini e per gli utenti vedano dove le attività vengono svolte e in che maniera. Qui abbiamo telecontrollo, abbiamo personale qualificato che esegue continui aggiornamenti e tutte quelle che sono le attività operative dell'impianto vengono controllate con continue analisi. Per concludere, la Capodaglia ha voluto ricordare Rinaldo Tunucci, storico dirigente dell'ASET in pensione scomparso sabato scorso all'età di 73 anni dopo essere stato colto da infarto. L'uomo infatti, mentre guidava all'altezza dell'ex caserma Paolini, si è sentito male, accostato l'auto, è sceso a prendere una boccata d'aria e poi è crollato a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo, Tunucci è deceduto poco dopo in ospedale. La nostra azienda si stringe alla famiglia, a Mariella, ai figli, Tommaso, Davide, perché di lui abbiamo un grande ricordo, di Rinaldo come direttore dell'Acquedotto, prima nel comune e poi in ASET. Quindi le più sentite condoglianze a tutta la famiglia, a chi l'ha conosciuto e che gli ha voluto bene.